Finalmente è arrivato il mio primo mega ordine su Temu. Siete curiosi di vedere cosa c'è dentro? Apriamolo insieme! Ti anticipo che se ti piacerà qualche articolo di questo video puoi semplicemente cliccare il link in bio per avere la possibilità di riceverlo gratuitamente. Lascerò anche questo codice sconto affinché tu possa cercarlo direttamente nella barra di ricerca dell'app di Temu. Nuovi utenti possono ricevere da 3 a 10 articoli in omaggio. Per soli 13 euro e 98 centesimi ho preso questo aspirapolvere utilissimo e soprattutto senza fili. Sembra anche abbastanza potente. Passiamo al secondo pacchetto. Un cestino piccolino e molto utile per chi come me non sa dove mettere la sua spazzatura in auto. Questo l'ho pagato solamente 2 euro e 17. Ma passiamo a qualcosa di tuning. Questi led sotto scocca li ho pagati solamente 16,99 euro. Se volete un video specifico dove li monto fatemi sapere nei commenti. Vediamo cosa c'è in queste buste. A meno di 2 euro 10 pannetti microfibra. 4,28 euro per queste 3 spazzole per la pulizia dell'auto. Prossima busta. Saldatore per plastiche pagato 18,23 euro. Questo l'ho pagato 1,97 euro, un portachiave in nylon e l'ho scelto per il colore. 3,99 euro per questo prodotto che ci fa questa schiuma davvero molto figa. Sfumeggiante! Sicuramente lo vedremo in un prossimo video. La cosa più spammata sui social negli ultimi tempi per 1,79 euro ve la voglio presentare così. Una clip portocchiali a 66 centesimi. Per chi invece ha un'auto molto lenta una bella turbina. Due dischi freno con pizza e brembo. Questi erano in offerta e li ho presi tutti e due insieme. Uno rosso e uno nero. Altro prodotto spammatissimo sui social ve lo presento così. Pellicola per i fanali anteriori. La proveremo sicuramente in un prossimo video. Ultima busta. Pannetti in microfibra. Led da interni. Questo porta bibita. Che verrà agganciato al poggiatesta. Potremo inserire la nostra bibita preferita. Siamo alla fine del mio primo ordine su Temo. Commenta qui sotto quale prodotto ti piace. E non dimenticare di andare al link in bio per trovare gli articoli in questo video.